Per il secondo anno la Caritas di Andria con l'ufficio Scuola Diocesano si attiva contro quella che Papa Francesco chiama la catastrofe educativa. Pubblicato il bando Ritorniamo a Scuola 2021 che premia con 40 borse di studio del valore di 150 euro altrettanti giovani studenti per sostenere la spesa dei libri di testo nel passaggio dalla scuola media alla scuola superiore. Marilena Pastore. E' una delle tante emergenze lasciate dalla pandemia da Covid purtroppo ancora in corso. La povertà educativa è per il secondo anno la Caritas della Diocesi di Andria con l'ufficio Scuola Diocesano si adopera concretamente per porre un'argine a quella che Papa Francesco chiama catastrofe educativa. Ad essere esclusi sono sempre coloro che hanno meno mezzi sia materiali che culturali ricordava lo scorso anno il Papa. Secondo alcuni recenti dati di agenzie internazionali si stima che circa 10 milioni di bambini potrebbero essere costretti a lasciare la scuola a causa della crisi economica generata dal Covid aumentando un divario educativo già allarmante con oltre 250 milioni di bambini in età scolare esclusi da ogni attività formativa. Proseguendo tutte le attività volte al sostegno dell'educazione di bambini e adolescenti spiegano il direttore della Caritas Don Mimo Francavilla e il direttore dell'ufficio Scuola della Diocesi di Andria Don Adriano Caricati vogliamo riproporre il bando pubblico Ritorniamo a Scuola 2021 che premia con 40 borse di studio del valore di 150 euro ciascuna per sostenere la spesa dei libri di testo 30 ragazzi dei comuni di Andria, Canosa di Puglia e Minervi Nomurge che termineranno la scuola media per l'accesso alle scuole superiori e 10 ragazzi di quanti già sono stati beneficiari nello scorso anno della stessa iniziativa. La spesa per i libri di testo a partire dalla scuola superiore rappresenta infatti un costo esoso per le famiglie che potrebbe comportare l'abbandono della prosecuzione degli studi soprattutto in quelle famiglie segnate dalla crisi per la perdita di lavoro o la sospensione dell'attività economica. Da oggi sino al 23 luglio prossimo si potrà fare domanda attraverso l'apposita modulistica che è possibile scaricare dal nuovo portale della Caritas Diocesana o dal sito della Diocesi di Andria. L'iniziativa è sostenuta dalla Caritas Diocesana e potrà essere alimentata da quanti vogliono contribuire a sostenere il fondo delle borse di studio attraverso la donazione sul conto corrente di Banca Etica. Le graduatorie saranno pubblicate entro il 31 luglio 2021. L'erogazione del contributo allo studio avverrà con la consegna diretta dei libri di testo. La sede diocesana della Caritas su Andria, i centri di ascolto della parrocchia Santa Maria Assunta Canosa di Puglia, e il centro di ascolto Emmaus a Minervino-Murge sono pronte a dare ascolto e raccogliere le domande.